Siamo accanto alle tavole di Giovanni Manna, un acquerellista italiano vincitore del premio Andersen qualche anno fa, che ha scelto di raccontarci la vita di John Muir, un naturalista, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al contatto con la natura, ha cercato e ha ottenuto la protezione dei grandi parchi naturali americani. Ed è vero che in queste tavole si respira proprio un contatto rilassante con la natura, dove in questo caso il buscare, la ricerca, non è una ricerca legata all'inquietudine, alla paura, ma al contatto, al contatto diretto con essa. Quindi quest'uomo che ha passato molto tempo della sua vita, molti anni, anche a vivere proprio all'interno dei grandi parchi nazionali. Ed è attraverso l'uso dell'acquerello, della matita e dell'acquerello che si sente e si respira questo senso di quiete, di pace e di natura benigna, di natura accogliente.